Comunicare correttamente l'attrezzatura naturalmente ci vuole l'attrezzo giusto e voi l'avete creato? Diciamo che ci siamo riusciti, grazie alla collaborazione anche in questo caso di Olfos, di Viti, di tutto il suo staff, che grazie ai loro consigli di prezioni ci ha permesso di creare questi attrezzatori sempre più performanti. Ecco ovviamente il decorativo, materiale che si applica, è importante ma è molto importante anche la mano e soprattutto lo strumento. Purtanto dobbiamo fare un ringraziamento personalmente a loro perché con i loro consigli ci hanno permesso di creare questa nuova linea, questo nuovo kit che abbiamo fatto per prendere l'occasione del 20% dell'obbligo. Abbiamo visto i messi decoratori primi da applicarsi e come dicevo prima è veramente molto facile. Diciamo che sembra molto facile, molto semplice, ma bisogna tanti anni di esperienza. Tutta gente con veramente anni di esperienza, Sagasti lo fa da più di 15 anni e fa veramente chilometri e chilometri tutti i giorni. E nonostante ciò comunque vuole sempre migliorarsi, infatti questa parte è sempre anche con lui perché vuole sempre mettersi in gioco e quindi provare anche altri materiali perché dicendosi, dichiarandosi un ricoratore completo, vuole vedere tutti i materiali disponibili nel mercato. Allora è andata questa bella collaborazione anche con Sagasti, la Oikos e Momoy No Plus. Grazie. Grazie.